Interviene il sindaco di Statte, Franco Andriuli. Con l'approssimarsi delle elezioni amministrative ci sono tanti signori che, come la cometa di Alley, compaiono periodicamente e improvvisamente si sentono in dovere di urlare al mondo quanto ci tengono a Statte, per non parlare di coloro che sono pronti a freggiarsi di azioni epocali in favore della cittadinanza, pensando di interfacciarsi con persone poco documentate e sprovedute e soprattutto screditando il grande e importante lavoro che alcuni professionisti stanno facendo sul territorio comunale. Ritengo non corretto screditare il lavoro dei medici di base che, oltre ad affrontare tutte le difficoltà che la situazione epidemiologica sta comportando, si sono visti costretti ad affrontare la difficile situazione che si è determinata. Prima l'improvvisa e prematura scomparsa del dottor Tripaldi e ora l'inatteso anticipo del pensionamento di un medico e il prossimo pensionamento di un altro medico ancora. Con notevole stupore ho appreso che tutti i problemi legati alla carenza di organico del personale medico sarebbero stati risolti grazie all'intercessione presso l'ASDA di un consigliere comunale di minoranza che ha operato in accordo con altri due consiglieri, anche loro facenti parte della minoranza. Purtroppo c'è gente, molto attiva sui social, che però dimentica che le notizie vanno ricercate anche in altri canali. Infatti sarebbe bastato leggere l'articolo della giornalista Paola Guarnieri, pubblicato il 10 febbraio 2021, il giorno prima dell'intercessione, sulla Gazzetta del Mezzogiorno, per capire che sia il sindaco di State, sia il dottor De Sabato, in qualità di componente del COC e rappresentante di MedOnline, si erano adoperati presso le competenti sedi per trovare una idonea soluzione al problema. Naturalmente ci siamo preoccupati solo di risolvere il problema senza impegnare il tempo per freggiarci di medaglie al merito. Anzi, voglio cogliere l'occasione per ringraziare pubblicamente la grande attività svolta dal personale sanitario ed in particolar modo dal dottor De Sabato, che in un momento difficile come questo ha gratuitamente, e sottolineo gratuitamente, proceduto alle vaccinazioni anti-influenzali del personale docente, comunale e dei centri diurni. Capisco che quando si è a poca distanza dalle lezioni amministrative si renda necessario crearsi spazi di visibilità e questo può anche avvenire cercando di screditare l'operato di chi sta amministrando, anche se non lo condivido come metodo, ma è profondamente scorretto parlare di mancata efficienza del personale medico solo per prendersi il mi piace. Ritengo opportuno ribadire che parte dell'attività è stata svolta dai medici in maniera completamente gratuita, donando alla comunità statese il proprio tempo. Per ciò che attiene la campagna vaccinale Covid-19, il sottoscritto insieme al dottor De Sabato si è attivato già da tempo per fornire una adeguata soluzione. Durante il colloquio con il direttore sanitario della ASL, dottor Vito Gregorio Colacicco, avvenuto già un po' di giorni orsono, il dottor De Sabato ha fornito al dirigente ASL la disponibilità a vaccinare a domicilio le persone non deambulanti senza che questo costi alcun aggravio economico per le casse pubbliche, in altre parole gratuitamente. Inoltre si sta valutando l'opportunità di far diventare anche le farmacie del territorio punti vaccinali. L'unico nodo da risolvere è quello logistico, ma stiamo lavorando con gli uffici comunali per trovare una soluzione. Chi conosce il territorio e le esigenze che questo ha non aspetta che la sollecitazione avvenga dall'esterno, ma si muove indipendentemente dal ritorno elettorale che le proprie azioni possono avere. Essere populisti è facile, per essere concreti ci vuole ben altro.